Arrivano le regole per la Movida e non solo. Il Comune ha adottato il piano di classificazione acustica, documento articolato ma necessario anche per dirimere la storica lotta tra residenti e locali in occasione di eventi. Il documento si sofferma su due rumori in particolare, quelli dei cantieri e quelli degli spettacoli musicali temporanei, come concerti, feste o sagre. Vengono individuate anche le aree in cui si possono fare eventi sia in centro che frazioni. C'è la parte del sonoro che è la più importante e anche delle distanze dai monumenti dei palchi, che spesso ha fatto discutere e vedi con le maggio. Il limite sonoro in facciata dovrà essere di un metro, un metro e mezzo dal piano di Calpestio. Gli orari sono ampliati dalle 15 alle 2 di notte, comprese le prove. Il Comune dovrà fare controlli. L'orario delle manifestazioni all'aperto è indicativamente dalle 15 alle 24 per un massimo di 4 ore al giorno. In questo piano abbiamo cercato quella che è una mediazione tra i vari interessi della città, quindi permettere che la città sia viva, sia attrattiva per i giovani, per i turisti, per tutte le categorie e che possa permettere anche a chi vive il centro storico di riposare e viverlo nel pieno delle proprie facoltà. Infine ci sono le attività dei cantieri, consentite limitatamente ai giorni feriali, dalle 8 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. L'esecuzione di lavori molto rumorosi, all'Aquila ci sono tante demolizioni ancora in corso, deve essere limitata alla fascia orale 8-13 e quindi 19. I gestori dei locali attendono di leggere il documento che è molto tecnico. I residenti sperano che si possa dormire ma anche divertirsi, nessuno vuole negare questo, comunque il Comune ha consultato tutti. Abbiamo ascoltato, chiamato anzi sia i rappresentanti dei commercianti e quindi le associazioni di categoria con le quali abbiamo avuto dei confronti, sia i comitati del centro storico che però non sono venuti, non hanno accettato il nostro invito per il confronto e il prossimo passaggio sarà quello di recepire le osservazioni a questo piano per l'approvazione definitiva successivamente per la seconda volta in Consiglio Comunale. Un percorso lungo e complicato che ha richiesto molto tempo ma è uno strumento importante per la nostra città atteso da circa 30 anni, il confronto c'è stato sia all'esterno sia all'interno dell'amministrazione, tutti quindi siamo convinti che questo possa essere uno strumento che possa dare alla nostra città una tranquillità maggiore rispetto a prima. Grazie. 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 Grazie.